Buongiorno e benvenuti. Ieri avevo parlato del fatto che negli anni in cui c'è o l'europeo o il mondiale il mercato si accende un filo dopo. Immagino quale possa essere facilmente l'obiezione, ma la Juventus il mercato lo sta facendo, il Napoli il mercato lo sta facendo, eccetera, eccetera, eccetera. Anche noi un anno fa, stesso periodo, il mercato lo stavamo facendo, eccetera. Perché noi un anno fa eravamo nella stessa situazione in cui si trovano Juventus e Napoli oggi. Un anno fa noi dovevamo cambiare molto. Oggi ad esempio Juventus e Napoli devono cambiare molto. Per cui è abbastanza normale che partano un po' prima. Noi non dobbiamo cambiare molto. Noi dobbiamo fare tre, quattro cose importanti e le dobbiamo fare con le risorse a disposizione. Abbiamo investito sull'Under 23, abbiamo investito su Chimenez e non c'è un budget ufficiale. Però ad oggi i ricavi a disposizione sono quelli della Champions League più la cessione, il riscatto di De Ketlare operato da parte dell'Atalanta. E dovendo fare, fate voi, tre, quattro cose, sia tre che quattro, devi fare le cose giuste al prezzo giusto con il budget a disposizione in questo momento. Perché molti tifosi arrabbiati dicono, eh ma siamo inutile e sì, certo, il bilancio con ogni probabilità io non conosco le cifre ufficiali e non so ufficialmente quando verrà comunicata la cifra, ma c'è un utile di bilancio, c'è un investimento sull'Under 23. Quindi con i ricavi a disposizione, con i fondi a disposizione in questo momento, la dico male, se tu spendi 55-60 milioni per il centravanti, poi non hai molto altro a disposizione. Quindi le cose giuste al prezzo giusto e al momento giusto. Questo è quello che con mano lucida e non emotiva vuole fare il Milan ed è quello che farà, ed è quello che farà il Milan. Le ultime dicono che il Manchester United avrebbe comunicato al Bologna l'intenzione di pagare la clausola. Oggi è il 7 luglio, non è la prima volta onestamente che leggo questo tipo di notizia. Ieri Zirze alla fine di Olanda-Turchia alla risposta se resterà in Italia e non lo so, vediamo. Io non voglio minimamente fare la morale a Zirze e non voglio minimamente fare polemica su Zirze, che per me resta un bellissimo e fortissimo giocatore di calcio, di personalità, di tocco, da San Siro. Quindi la mia idea di calcio, la mia idea tecnica su Zirze non cambia. Però in generale, non solo per Zirze, ma anche per Zirze, se stiamo parlando di lui adesso, è che chi vuol veramente venire al Milan ci viene, il modo di venire lo trova. E non lo so, vediamo, va bene. Cioè, nessun problema. Rimpianto tecnico, rimpianto calcistico, ma la vita continua sempre. Le ultime che leggo sui social qui, questa l'ho letta sui social, ci sarebbe stata, la scritta mio amico Alessandro Iacobone, ci sarebbe stata un'offerta del Bayern Monaco di 40-50 milioni di euro per Magnan e il Milan ha opposto, avrebbe opposto un secco e duro. Io non lo so se ci sia stata l'offerta per il Bayern e se ci sia stato il no del Milan. Parto da questo presupposto. Se fosse, se ci fosse stata l'offerta del Bayern e ci fosse stato il risoluto no del Milan, ci sarebbe l'ulteriore conferma che non siamo qui per vendere, che non siamo alla ricerca di cessioni, che non siamo legati a questo tipo di operazione e che se proprio dovranno esserci delle cessioni, dovranno esserci delle cessioni di cui in questo momento non si vedono onestamente i contorni per cifre molto, 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 molto importanti, come ad esempio è accaduto l'anno scorso per Sandro Tonale. Per cui l'idea anche che ci sia uno spirito costruttivo per quanto riguarda i colloqui di cui parla sempre Iacobone e per i colloqui per il rinnovo del contratto di Magnan, beh, dovrebbe essere una buona notizia questa per i tifosi del Milan, visto il Mike Magnan dell'Europeo. Mike Magnan dell'Europeo è un grande portiere, altro che è stato forte solo un anno, non è più quello di una volta. È un grande portiere oggi, Mike Magnan, quello dell'Europeo. Per cui se le notizie dovessero andare in questo senso, cioè nel senso di un Noal Bayern e di un prolungamento, beh, sarebbe una notizia bellissima per i tifosi del Milan. Sempre le ultime parlano di un interessamento dell'Ali Tihad per Ismail Ben Nasseri. A proposito di Aliti Ad, si era già parlato di questo club saudita nei giorni scorsi per quanto riguarda Stefano Pioli. In Italia poi si è fatto presto, no? Ah beh, allora con il risparmio di Stefano Pioli, il Milan ha i soldi per le commissioni, eccetera, eccetera, eccetera. Il mercato non è un fatto di segmenti, è un fatto complessivo. Certamente nel caso in cui Stefano Pioli andasse ad allenare un'altra squadra ci sarebbe un beneficio per i conti del Milan. Ma, come dicevo nei giorni scorsi, 4-5 giorni fa, con San Siro alle mie spalle, non siamo qui evidentemente con lo spirito di chi fa la questua sulle decisioni di mister Pioli. Prima vengono le decisioni di carattere umano, professionale, legittimamente economico da parte di Stefano Pioli nel suo rapporto con l'Ali Tihad e poi si vedrà, si dice ragioni fiscali, si dice che si sia un po' fermata la trattativa, non lo so, ma rispetto e priorità per le scelte di Stefano Pioli e poi vedremo. E quindi, di conseguenza, andrebbe eventualmente anche Ben Nasser perché se ci sono ragioni fiscali, se ci sono ragioni fiscali, come leggo, che avrebbero rallentato la trattativa per Stefano Pioli, lo stesso potrebbe anche accadere per Ismael Ben Nasser, dove non ci sarebbe trattativa. Il club saudita, come altri, possono esercitare la clausola da 50 milioni di euro per Ismael Ben Nasser. È l'unica strada per poter acquisire Ismael Ben Nasser perché anche qui il Milan non fa mercato per le cessioni e non fa trattative per le cessioni. Sulle cessioni o si paga la clausola oppure si fa un'offerta irrinunciabile, altrimenti non c'è trattativa, non c'è apertura, non c'è dialogo. Questo è un po' il quadro delle ultime. A più tardi.